Eliminare velocemente il longipede è semplicissimo, scoccate le frecce col più alto danno lacerante che avete facendogli esplodere la cassa toracica. Fatto ciò il longipede andrà in avaria e sarà sufficiente un colpo d'asta pesante per stordirlo e uno critico una volta a terra. Io sono Brex e questo è Tips & Tricks, se la guida vi è stata d'aiuto lasciatemi un like, un commento e iscrivetevi con la campanella attivata per le altre guide. Alla prossima!